Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti Giorgi, buongiorno a tutti gli altri, oggi come potete vedere siamo qui sul primo, primo gameplay di FIFA World Allora, i crediti come vedete, o meglio i FIFA Point qui, purtroppo sono calati perché ho fatto un altro pack opening, però il video mi si è corrotto Però ragazzi non avevo trovato nessuno, quindi va bene così, diciamo che non ci siamo persi niente, non vedrete fenomeni in campo Vorrevo provare a fare una barra due partite ovviamente in Ultimate Team e vedere come va, mi sono esercitato con Thomas Thomas il canale lo troverete in descrizione anche perché ci vedrete fare spesso partite insieme amichevoli Visto che anche lui gioca a FIFA World, magari anche con lui se avrà tempo, o magari anche con Gigi Sinceramente ci spero perché quest'anno da loro non ho ancora preso bastonate, quindi mi manca un po' Ok, cerchiamo l'avversario, intanto mi deve prudere una parte della faccia, apposta Connessione all'avversario, attendere Iniziamo la partita, no, non abbiamo nessuna... Eh, c'ho questa di maglietta Cioè abbiamo tutte e due due magliette bianche Vabbè, scegliamoci quella con le righe verdi Speriamo di non confonderci ragazzi e speriamo di dargliene tante Allora, Carroll, meno male non quello If, Chamberlain, Rio Ferdinand, Glenn Johnson, Terry, Rutledge, Gibbs È una inglese che tutto sommato non è niente male Cinque vittorie, due pareggi, quattro sconfitte Ah no, quello è il mio Tre vittorie, un pareggio e nove sconfitte Si può fare Tanto non scendiamo il microfono perché mi dà fastidio Si può fare Ragazzi, andiamo Guardatelo che avanza Tiro Ah, non va, non va, non va, cross là in mezzo Tiro, tiro Non va ragazzi, non va ma Mi sto, mi sto impratichendo, eh Mi sto impratichendo, non vi preoccupate, tutto passerà Bellarabì, Bellarabì Mamma mia, fantastico, un fenomeno Bellarabì Tra l'altro Bellarabì ragazzi l'ho sbustato Palla in mezzo, non va, non c'è nessuno Però, 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 eh, gli dà il vantaggio Ho rischiato veramente tantissimo Però, però oggi, once on, once on In voltino primavera, one ton Sì, vai, vai, vai tranquillo Convinto, convinto che glielo facciamo No, non glielo facciamo Vai ragazzi Vai andiamo, andiamo convinti Andiamo convinti sulla fascia Bellarabì, Bellarabì non ti venderò mai Forse ti vendo Bellarabì, son Non era Bellarabì, son E andiamo 1-0 1-0 L'abbiamo messa al 45esimo Bug del 45esimo Ma non ci interessa E gli schippiamo il replay Perché così ci va Vai ragazzi Ora spingere per finire il primo tempo Ce l'abbiamo fatta La squadra si chiama Bimbo 11 Spero di vincere Perché adesso che mi sono accorto di come si chiama Ragazzi, andiamo Andiamo Concentrati, secondo tempo Onningson Onningson Close, 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 close Close contro il portiere Miro Close, 2-0 2-0 2-0 2-0 Miro close Andiamo Forse ci sto prendendo la mano Sono sicuro Ma forse ci sto prendendo la mano Attenzione Attenzione Da solo ancora Close Palo Stavo già esultando Non dovevo esultare Vai Vai, 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 vai Vai ancora Convinto Convinto Non basta volta Eravamo quasi sul 3-0 Mamma mia Se entrava anche questo Gliela presa in una maniera Che non ho capito come Attenzione Tiro Oh, no Mi ha preso anche questo Quasi Quasi Però ci credo Voglio il 3-0 A tutti i costi E no Direi decisamente no Oh, è fallo Vediamo adesso Se sono capace Di tirare le punizioni Ragazzi Ehm Non so chi sia Close No Non le so tirare È ufficiale Non le so tirare Però 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 Tiro È 3-0 Juan Jansson Sì Juan Jansson Lui È fortissimo Fortissimo 3-0 Per Nebi FC Incredibile Non ci voglio credere Ola Vai Vai ancora Ancora Prova per il 4-0 Miroslav No Me l'ha presa Però Attenzione È rigore È rigore È rigore Ragazzi Mi ha fischiato il rigore Mi ha fischiato il rigore Mamma mia Grandissimo Centrale Eh vabbè L'ho sbagliato ragazzi Non le so tirare Il rigore Ve l'avevo detto Mi devo Mi devo impratichire È finita Ragazzi È Finita 3-0 Doppietta di Son E gol di Close Questa partita È una partita Sperimentale Nei commenti Ditemi Se la partita Vi è piaciuta Se la modalità Di gioco Vi può piacere E vi volevo dire Se nei commenti Se voleste scrivermi Nei commenti Se volete Magari una mini serie Che avevo intenzione di fare Cioè di amichevoli Ci sono anche i link Di game hosting Se avete bisogno Di server di gioco O di server team speak Siccome sono nebbia Non sono peppe Per questo video È già tutto E direi che L'auto è durata Più della partita Quindi Ciao a tutti ragazzi Buongiorgi a tutti Giorgi e BoomMatch Tra tutti gli altri E al prossimo video Dove faremo Un'altra partita Oppure decidete voi Se anche una stagione intera Quindi Ciao e alla prossima